Progetto di alternanza scuola-lavoro al Liceo Manzoni-Iuvara di Caltanissetta, il tema solidarietà e impresa. Quanti alunni coinvolti? Il progetto è stato svolto nell'anno scolastico 2013-2014, è stato rivolto agli alunni delle quarte della sede Manzoni dell'Istituto Manzoni-Iuvara e in particolare agli indirizzi Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale. In particolare gli alunni coinvolti erano 30. Cosa significa oggi alternanza scuola-lavoro e in questo caso come si è svolto il progetto? L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che vuole coniugare l'aspetto formativo con quello professionalizzante o comunque vuole offrire ai ragazzi un'occasione di orientamento per poter conoscere meglio il mondo del lavoro, il mondo associativo del loro territorio e di conseguenza poter progettare in maniera più fattiva il loro futuro. Nello specifico noi abbiamo scelto l'associazione Casa Famiglia Rosetta, che è una onlus che lavora nel campo del disagio sociale e psicologico proprio perché si avvicina molto ai nostri curricoli, nei nostri indirizzi di studio. Parliamo delle figure? Le figure professionali che i ragazzi hanno incontrato sono figure di sociologi, psicologi, ma anche biologi che a vario titolo lavorano appunto con il disagio. Come è andata questa esperienza? È stata un'esperienza abbastanza interessante perché è inerente al nostro piano di studi e perché rispecchia un po' le nostre prospettive lavorative. Abbiamo quindi cercato di capire di cosa si occupa l'associazione Casa Famiglia Rosetta nel territorio, scoprendo appunto che opera nel settore sociosanitario, socioculturale e psicosociale. Abbiamo avuto quindi modo in questa esperienza di conoscere un po' i servizi di questa associazione che sono abbastanza vari e conoscere vari centri che ci sono in parte della Sicilia ma anche fuori Italia.